Versate 80 g di zucchero bianco, un cucchiaio di cacao amaro, noce moscata, un cucchiaio di cannella e poi ho verso 3 cucchiai di acqua naturale. In realtà dovete versare 2 cucchiai di acqua naturale con un cucchiaio di liquore a scelta e poi versate la scorza di limone grattugiata. Io ho versato 3 cucchiai di acqua naturale perché se li mangiano anche i bambini, quindi ho evitato di mettere il liquore. Ma in realtà la ricetta prevede un liquore, quindi un liquore a vostra scelta. Portiamo tutto sui fornelli. Quando abbiamo scaldato bene, abbiamo miscelato bene tutti i nostri ingredienti, versate 100 g di mandorle. Io ho utilizzato le mandorle pelate, però la ricetta prevede le mandorle non pelate, ma vanno bene tutte e due. L'importante è che sono mandorle tostate, mi raccomando. Le mandorle devono essere tostate. Potete tostare le vostre mandorle in forno a 160 gradi per 5 minuti, oppure le mettete in padella, mettete il coperchio sempre per 5 minuti con fiamma bassissima. E le vostre mandorle diventeranno tostate in pochissimo tempo. Bene, amalgamate tutti gli ingredienti, quindi le mandorle con tutto il vostro composto. Quando otterrete una consistenza sabbiosa, potete spegnere subito la fiamma, perché i vostri sassi da bruzzo sono pronti. Quindi prendete un piatto, mettete la carta forna sopra e dividete con un cucchiaio le mandorle, quindi da ottenere dei piccoli sassi, così come faccio io. Ragazzi, potete consumare subito i vostri sassi da bruzzo. Sono buonissimi, una vera e propria delizia. Se poi aggiungete il liquore, o a scelta, sono ancora più buoni. Quindi se magari vengono consumate dai bambini, non aggiungete il liquore. Quindi, come vi ho già detto prima, 3 cucchiai di acqua naturale, se vengono consumate dai bambini. Oppure, se vengono consumate dai grandi, 2 cucchiai di acqua naturale con un cucchiaio di liquore a scelta. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi, perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose. E tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella, così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete, seguitemi su Facebook, su Instagram oppure su TikTok, come Ricette Golose di Cartesia. Ciao e alla prossima!